Dovevo forse aspettare il permesso di quelli incompetenti. E poi non chiamarmi più maesta, ormai il re è Anu. Io ho perso la sfida, ma la soddisfazione di mangiarmi i suoi attributi l'ho avuta. Tra poco arriverà il tramonto del sole. Qui segna la fine di un giorno sulla terra, perciò non vi impaurite. Quali sono le regole? Cosa deve fare il re? Se il danno deve esserci, che esso sia limitato. Avvicinati e dimmi qual è il tuo nome e il tuo incarico. Una meraviglia delle meraviglie si è compiuta sulla terra! Una meraviglia! Un attimo solo, forse la risposta è racchiusa qui. In questa tavoletta di Ninjizidda, le concubine sono permesse dalle nostre regole. Lo sapete bene, maestà. Il signore Enki mi ha ordinato a non mangiare il pane e non bere l'elizir. L'unico appunto che ho da farle. Lei ha detto base segreta? Ma siamo già in viaggio da molti giorni, ormai su questo carro celeste rubato. Dove la nostra comprensione ci guida, quello è il nostro destino. Noi siamo fratelli, eppure in quello, in quello siamo diversi! Perché? Perché il tuo è simile a quello dei nipuriani, mentre il mio è simile a quello dell'uomo? Amel! Fratello mio! Cosa ho fatto? Non lo so! Non lo so! Non so niente! Non so niente! Non so niente! Nulla! No! Non lo so! No! No! Non mi legare! No! La morte fu per la prima volta sul volto di un essere umano, e l'uomo capì dunque che da quella fase non ce ne sarebbero state altre. Il riposo non giunse, i nipuriani erano grandemente turbati, con i cuori agitati e attesero il ritorno del sole. Ho visto, ho fatto un sogno, ho visto tanto sangue, e Abel... Hai ucciso tuo fratello! Che tu sia maledetto! Dovrai lasciare l'Edin! Non potrai stare fra gli Anunnaki e i terrestri civilizzati! Quanto ad Abel, il suo corpo non può restare nei campi, esposto agli uccelli rapaci. Come costume, presso gli Anunnaki, sarà seppellito in una tomba, sotto a una pila di sassi. In quanto a te, provvederò io, ora! Adapa è stato generato da una donna terrestre, fecondata con il mio seme. Sono dotati di saggezza e di favella, ma non posseggono la lunga vita di Nibiru. Altri ovuli fecondati sono stati inseriti negli uteri delle eroine gestanti. Al momento stabilito, sono avvenuti i parti. Sette femmine nate, fattezze perfette, emettono suoni adeguati. Li faremo crescere insieme. E quando raggiungeranno la maturità sessuale, i maschi feconderanno le femmine. Tu, misterioso emissario divino che trasmetti messaggi mediante sogni e visioni. Immaginate, un essere a nostra immagine e somiglianza, creato dalle nostre mani, rimarrà nella storia, nei libri dei libri, nei secoli dei secoli a venire. Ma non soltanto qui sul Nibiru, anche sul resto degli altri pianeti. Saggi e consiglieri, credo che non ci sia niente da rivisitare. Il messaggio parla molto, molto chiaro. Per questa ragione, propongo che venga inviato ad Alalu un messaggio di pace e di riconciliazione. Sei bella e giovane, pronta per l'amore. Sarei il primo ad averti. Una nuova razza di terrestri è emersa sulla Terra. Vantiamoci a vicenda su quello che abbiamo o sappiamo fare. Te lo giuro, è la verità, è lungo tre fili d'erba. Guarda, guarda, ride, guarda. Si deve provare un altro metodo di miscelazione delle essenze. Occorre trovare un altro modo per combinare i due filamenti delle essenze senza danneggiare la parte proveniente dalla Terra, che deve essere forgiata in modo da ricevere gradualmente la nostra essenza. Lo si può ottenere solo a poco a poco, dalle formule dei me, relative all'essenza di Nibiru. Dobbiamo riprovare. Questa è una missione importante. Non posso permettermi un'altra gravidanza.